questo è uno spigmo manometro di ultima generazione rispiri buon appetito Buonasera, chi è il paziente? Ah, è lei! Salve, io sono la dottoressa Feri, molto piacere Prego, si siete intanto Mi raccontava il dottore che ha avuto qualche problemino Ah, un capogiro Ok, quando l'è capitato? Mentre era in strada Intanto si sieda Si, si rilassi Controlleremo tutti i parametri Ok L'era già capitato altre volte per caso? No? Ok Ah, intanto mi dica come si chiama Ok Allora Faremo questo Per prima cosa le misurerò la pressione Lei soffre di ipertensione per caso? No? Ok Ci sono che lei sappia dei casi in famiglia di persone ipertese? No? Va bene E quanti anni ha? E quanti anni ha? Va bene Allora, un respiro profondo innanzitutto E' molto importante che si rilassi In modo che i parametri della pressione non siano forzati Ok Adesso dovrebbe per favore togliersi la giacca Può alzare per favore la manica del braccio sinistro? Ottimo Allora Allora Questo è uno sfigma manometro di ultima generazione Sì, ce l'ha portato il nostro amico Piero Eh sì Molto molto preciso Vediamo Il braccio Ok Siamo pronti? Siamo pronti? Ok 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 Direi che è leggermente bassa Leggermente Probabilmente è per questo che ho avuto il giramento di testa Non ci preoccupiamo però Ok? Magari basta semplicemente un caffè Ah Soffre di caldi zuccheri? Ah Allora Le do subito una caramella Va bene Prima però Un ultimo controllo Ok Se può per favore alzare la maglietta Voglio ascoltare il suo respiro Sì sì Solo sollevarla Non si preoccupi Ok Perfetto così Vediamo Vediamo Respiri Ancora 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 Va bene va bene Va bene È tutto perfetto La vista è un po' appannata Ma anche adesso Allora guardi sicuramente È tutto dovuto al capogiro È all'abbassamento di pressione Sì sì Possiamo controllare certo Apro No 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 È davvero tutto al posto Lei si preoccupa troppo Ci vuole un po' più di tranquillità Adesso le do una caramella intanto per i suoi caldi zuccheri Ok Anzi Ne mangerò una anche io Eh sì sì Sono delle caramelle speciali Alle erbe aromatiche Prego Prenda Prenda Ok E le prendono anche per me Sono davvero molto buone però Vanno masticate a lungo Intanto Rimetto al suo posto lo sfigma manometro di ultima generazione Bene Se desidera un bicchiere d'acqua e lo faccio portare Comunque può restare qui Per tutto il tempo necessario Quando si sentirà meglio Potrà rialzarsi E tornare naturalmente alle sue attività Se ha voglia Le faccio consigliare Dal dottore Alcuni integratori che può prendere Sì Dopo Al reparto farmacia Di là Va bene? Ok Allora In bocca al lupo Io Torno ai miei pazienti Arrivederci Arrivederci Adesso Possano piacerti Buonanotte Buonanotte Buonanotte